Uno dei capisaldi fondamentali del sistema liberale è la legalità. Libertà politica e legalità non coincidono, ma l'instaurazione di questa è condizione perché quella possa proficuamente esplicarsi nella vita della società. Con la legalità non vi è ancora libertà, ma senza legalità libertà non può esserci. Che cosa vuol dire legalità? Perché la legalità è considerata condizione della libertà politica? La legalità è condizione di libertà perché solo la legalità assicura nel modo meno imperfetto possibile quella certezza del diritto senza la quale praticamente non può sussistere libertà politica. Certezza del diritto, cioè certezza dei limiti entro i quali si estende la libertà di ciascuno e al di là dei quali comincia la libertà dell'altro. Certezza del diritto, ossia possibilità pratica per ciascuno di conoscere, prima di agire, quali sono le azioni lecite e quelle vietate, cioè quali sono le azioni che egli può compiere per esercitare la sua libertà senza violare insieme la libertà degli altri. Su questa idea elementare della legalità si incardina tutta la struttura del cosiddetto stato di diritto, il meccanismo del quale, nei suoi svariati e complicati congegni, si può ricondurre ad un'unica idea madre, che non solo le relazioni tra i cittadini, ma anche quelle tra i cittadini e l'autorità debbono essere regolate in base a leggi prestabilite, in modo che ciascuno sia in grado di conoscere in anticipo fin dove arrivano i suoi diritti e dove cominciano i suoi doveri. Nello stato di diritto anche la libertà dell'autorità è limitata dalla legge, in modo da non barcare i confini della libertà individuali dei cittadini. Il sistema della legalità è l'unico che consente l'uguaglianza giuridica dei cittadini, che non è la stravagante uguaglianza utilitaria e materiale, che porterebbe ad un assurdo trattamento di tutti gli uomini senza tener conto delle diverse attitudini e dei diversi meriti, ma è anche una uguaglianza di proporzioni, trattamento simile di casi simili, uguale retribuzione a meriti uguali. Grazie.